C-c-c-c-come sono piccole! Ah, sento il profumo di donna! Ah, che meraviglia! Questa è la stanza di una donna, di una donna! Sì, sì, sì! Da questa sera dormiremo insieme, noi due da soli, uomo e donna, e ogni notte, tutte le notti, faremo lezioni d'amore. Devi rispondere a una domanda per volta, capito? Sì, risponderò, risponderò, risponderò! Maledetto C-y! No, prima devi cominciare dalle domande di geografia! Maledetto bacino di Ciciibu! Ehi, bacino! Quella è la parte sud delle Alpi! Allora, queste sono le Alpi del Nord! Eh, questa è la Fossamagna! Sto arrivando alla foresta tropicale! Sì, ecco come saranno le nostre lezioni! Cosa dicevi della foresta tropicale? Stavo ripassando la geografia! Eh!